Diventa socio. Essere tesserati presso l'Associazione Comunali. Significa. Beneficiare di innumerevoli vantaggi. Tra cui. Accedere all'offerte culturali. Avere occasioni di incontro e contatto con nuove persone. Avere opportunità di apprendere. Partecipando a corsi di formazione. Viaggiare. Investire il proprio tempo libero. In attività di valore. Usufruire di assistenza CAF. Consulenza legale civile e penale. Consulenza assicurativa. Trasporto assistito. Usufruire di sconti presso esercizi commerciali convenzionati. Per informazioni. Contattare gli uffici segreteria. Consene. In. Diariosto 2 barra B. A. Mantua. Telefono. 0376. 323531. Oppure. Consultare. Il sito in internet. www.associazionecomunali.it. Contatto Presidenza. 3356068289.